Presidente, dopo la vittoria nel derby a Terni, anche quest'altro derby è andato al Perugia, un segnale sicuramente positivo? Sì, un segnale molto positivo perché si è vista una squadra, un atteggiamento come so che questi ragazzi possono avere e come pretendo. Per cui questa sera faccio i complimenti a tutti quanti indiscriminatamente perché hanno dimostrato di essere una squadra che ha passione, oltre ad aver giocato una bella partita, hanno dimostrato di essere il Perugia. Quindi io sono orgoglioso questa sera di questi ragazzi e faccio i complimenti. Finalmente un Perugia concreto al cospetto di un Arezzo che comunque rimane una buona squadra, no? Sì, proprio per quello. Stasera abbiamo una partita difficilissima contro una grande squadra perché l'Arezzo è una grande squadra, difficile anche a livello psicologico perché eravamo in una classifica un po' delicata e quindi una partita importante. Vedere questi ragazzi giocare in questo modo veramente mi inorgoglisce, ci inorgoglisce da Perugini. Per cui andiamo avanti così perché abbiamo queste possibilità, le doti tecniche ci sono, l'allenatore sta facendo un ottimo lavoro e se ci crediamo questo Perugia può essere un Perugia che si può ritagliare uno spazio importante. Era un derby e quindi gli stimoli erano naturali, però dopo la partita bruttina di Pistoia lei aveva voluto strigliare proprio tutto il gruppo proprio perché c'era un atteggiamento che non le era piaciuto. Bisogna quindi dare atto anche a lei che è riuscito a far cambiare un attimino la mentalità di questa squadra, almeno per questa partita, adesso ce l'è andare avanti così. No, no, ma il merito va ai ragazzi perché loro vanno in campo. Io semplicemente da presidente ma anche da tifoso voglio vedere delle prestazioni come questa sera dove insieme alle qualità che hanno si vede anche il cuore, la voglia di portare a casa dei risultati importanti ma perché so che la squadra ha queste caratteristiche, per cui il presidente si arrabbia quando vede le cose che non vanno però gli fa i complimenti e è orgoglioso di loro in questi casi.